L'idea della mostra Realismo e Silenzi, 30 opere per la solidarietà di Antonella Di Tommaso, era nata durante il lockdown ed adesso ha portato i suoi frutti ovviamente solidali. Il ricavato delle opere vendute sarà infatti devoluto in beneficenza al centro di accoglienza vincenziano Ollus di Arezzo, che assiste persone e famiglie in difficoltà alimentare. Una goccia nel mare della speranza la gettiamo anche noi, perché abbiamo venduto, non sono tanti denari perché il periodo è quello che è, però qualcosa abbiamo venduto, sicuramente sarà una piccola goccia nel contributo della solidarietà nella nostra città. Quindi questi soldi che abbiamo raccolto attraverso la vendita ricordo che saranno dati al centro di accoglienza vincenziano delle suole di Santa Maria Ingradia d'Arezzo, che soprattutto durante il lockdown hanno assistito dal punto di vista alimentare tantissime persone singole e famiglia. A chiudere la mostra, ospitata in Palazzo di Fraternita, la conferenza Iconografia della bellezza, un vero e proprio viaggio iniziato con l'arte religiosa per arrivare poi attraverso i secoli alla lettura contemporanea della bellezza, un argomento dunque tanto complesso quanto affascinante che ha caratterizzato ogni epoca nella quale ha trovato molteplici chiavi di lettura ed interpretazioni. La bellezza è la spiritualità, il vero valore della società di oggi è recuperare la spiritualità. La spiritualità nasce dalla nostra biologia, cioè il nostro cervello è un organo che è fatto di materia ma che trascende la materia con l'arte, con la poesia, con la musica, con l'amore. Tutti questi valori che passano dalla materialità alla spiritualità noi dobbiamo coltivare.